Il fenomeno dell'immigrazione nel nostro paese è materia prettamente attuale, tanto da essere stato analizzato con scrupolosità dal Centro Studi e Ricerche IDOS. E conoscere dunque il dossier statistico Immigrazione 2014, dalle discriminazioni ai diritti, rapporto UNAR, illustrato alla stampa in provincia di Lecce durante una conferenza organizzata da Integra Onlus e dall'associazione Salento Crocevia. Un vero e proprio rapporto annuale curato per conto della Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Emerge un dato importante. Nella Regione Puglia, che nella sola area salentina conta oltre 19.000 residenti stranieri, rispetto alle altre realtà italiane è possibile lavorare in un clima di minore intolleranza, considerando anche una politica migratoria giudicata dai relatori piuttosto positiva. A livello regionale invece si registrano oltre 110.000 immigrati, ovvero il 2,7% della popolazione residente.